Tu hai ansia a fare la 120? Tu hai ansia a fare la 120? Sì, per voi! Io anche! E forse, finalmente, dopo tanti tentativi, il Power Team riuscirà ad andare a fare il froda! Un avvicinamento! 140 di tu! Porca la vacca, voglia santa! Siamo qui, alla base della 141, sta per scendere qualcuno! Aua! Allora, amico, siamo qui! La mitica! 140 metri! Mira, Biasca, quando sta alta! Mira! 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 Mira lì! Mol pericolosa! Ma Ivan, tutto pronto? Alla base del saltone da 140 metri e trova l'armo a 25, sennò pavi da bere a tutti! Tanta roba, eh! Tanta alta, più che tanta roba! Filippo, come al solito, continua a farci i cazzi suoi! Ok, carica il discensore, vieni più su ancora, issati! Eh, però devo dargli lontana! Buon viaggio, Ivan! Fai più la corda coi due li cazzo, è una roba impossibile! Ivan si è calato un pezzo su una lamma super mega tagliente e si è accordo che c'è un pullman appeso sopra la sua zucca! Scenderemo a piedi perché so cazzo! Ahahahahha! Ahahahahha! Yeehoo! Power!